Kavai Aures un pianoforte acustico con un'anima digitale uno strumento dove tradizione e tecnologia si fondono con Aures troviamo la perfetta interazione tra la grande qualità costruttiva e l'eleganza dei verticali della serie K il potente motore sonoro della sezione digitale che trasforma il pianoforte da acustico a digitale ed il sistema di silenziamento in e-time che ci permette di utilizzare uno strumento con l'ausilio di cuffie in qualsiasi momento della giornata se lo desideriamo però Aures può diventare entrambi i mondi fondendo le due sonorità e la cosa ancora più sorprendente è quella di poter godere della sonorità espressa dalla sezione digitale dello strumento o da qualsivoglia fonte sonora esterna sia esso uno smartphone collegato tramite l'audio bluetooth oppure un player inserito nell'audio in direttamente dalla vibrazione della tavola armonica che grazie al raffinato trasduttore creato in collaborazione con Onkyo trasforma il pianoforte in un sistema di amplificazione naturale Kavai Aures diventerà il miglior modo per ascoltare la nostra musica preferita La serie K esprime una grande dinamica sonora grazie alla raffinata meccanica Millennium 3 che grazie all'ausilio di componenti realizzati in ABS Carbon restituisce più potenza, miglior controllo e maggiore stabilità rispetto alle meccaniche in legno inoltre la tavola armonica rastremata in abete massiccio i robusti piantoni e le barre trasversali che rimodellano l'area di risonanza della tavola armonica in modo molto simile a quella di un pianoforte a coda donano grande espressività e potenza sonora e l'eleganza di Aures si ritrova nelle linee e nei dettagli dal sistema di chiusura rallentata soft fall ai pedali in ottone pressofuso dalle ruote in ottone all'ampio legio l'ampio display touch con il quale viene gestita in modo semplice ed intuitivo la sezione dei suoni e delle funzioni è incastonata elegantemente nel mobile così come la centralina di controllo di facile accesso per i collegamenti a cuffie audio e USB audio e revisione a cura di QTSS e arriviamo ai suoni offerti dal potente motore digitale dall'SKX Rendering il raffinato campionamento dello Shigeru il pluripremiato Gran Coda di Casa Kavai disponibile con vari caratteri sonori alla ricca tavolozza timbrica di alta qualità che comprende il mondo tasteristico e che può essere utilizzata nelle modalità Split, Dual e Four Hands grazie al Virtual Technician invece possiamo ulteriormente modellare a piacimento il suono nelle sue caratteristiche fisiche come la risonanza delle corde del cabinet il rumore dei martelli e molto altro tutto ciò può essere modificato facilmente o sul display o con la app dedicata AORES dispone anche di un sequencer MIDI e permette inoltre la riproduzione e registrazione audio nei formati WAV e MP3 sia tramite USB2 device che via audio Bluetooth Kavai AORES un nuovo modo di godersi il pianoforte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.